Come ci ha visto arrivare la signora ha messo il cartello apertura ore 17 Igor finalmente ci conosciamo 3 anni Senti quanto è calata dal mare a Cimarest Ora se ne punta, punta verso Bologna Senti quanto è calata dal mare a Cimaresto Senti quanto è calata dal mare a Cimaresto